Ha avuto inizio la diciannovesima edizione del Blue Bar Summer Festival 2021, proprio qui alle nostre spalle, nell'arena adibita all'interno della Marina di Francavilla al Mare, nel porto turistico. Tantissimo il pubblico presente, con la serata iniziata con il professor Schianchi e il direttore artistico Maurizio Malabruzzi. Si sono ripercorsi i ruggenti anni 70 con un particolare riferimento al Parco Lambro, chiamato all'epoca la Woodstock italiana. Poi nella seconda parte sul palco i The Gang che hanno acceso nuovamente gli animi del pubblico presente con pezzi che hanno fatto un po' la storia della musica italiana di questa band e poi anche qualche inedito proposto qui al Blue Bar Summer Festival 2021. Blue Bar che continuerà fino all'8 di agosto sul palco. Insomma, come tutti sapete, tanti nomi illustri della musica italiana e non solo. Una serata d'apertura che ha emozionato il folto pubblico. Adesso però comincia il difficile, possiamo dire così, perché poi insomma ci si prende anche gusto. No, sai, l'importante è cominciare, l'importante è fare il primo passo, poi dopo siamo tranquilli. No, domani sera è una serata fantastica, Osanna che festeggia nei 50 anni e poi Tullio De Biscolo che ha ascoltato tutto il concerto dei The Gang, era in seconda fila ad ascoltare il concerto che peraltro anche lui era stato a Parco Lambro nel 77 insieme agli Atomic Rooster e suonava insieme a Don Cerro. Quindi tutto torna, tutto giro. Bellissimo. E tutto si ferma o comincia a Francavilla. Alla marina di Francavilla, cioè, come dico che è itinerante. Non so il prossimo anno dove staremo, però sicuramente quest'anno una bellissima location, un posto meraviglioso, c'è l'aria, non diamo fastidio a nessuno, si possono andare fino a tardi, devo dire che insomma, per ora, come si dice, cross the finger, e andiamo avanti.